Ma Anton Giulio era bravo perché quello che faceva, a parte che ha inventato lo sceneggiato, bisogna sempre avere dei grandi maestri, guardi tutte le cose, e Anton Giulio per me è stato uno dei primi, forse il primo maestro, come ho detto prima, che mi ha segnato a lavorare davanti agli obiettivi. Parata di stelle per il gran finale del premio internazionale Anton Giulio Maiano, una chiusura in grande stile per la Kermessa di quattro giorni, dedicata a ricordo del grande regista e sceneggiatore teatino, inventore degli sceneggiati e precursore delle fiction. In un teatro maruccino gremito, gli artisti del cinema, dell'arte e della musica sono stati premiati con l'Achille d'Argento. La serata di gala, trasmessa in diretta su Rete 8, che insieme al centro è stata media partner dell'evento, è stata condotta dalla giornalista Mila Cantagallo e si è aperta con i saluti del vice sindaco e presidente del premio Paolo De Cesare. I premi alla carriera sono stati assegnati a Giancarlo Giannini, Eleonora Giorgi e Pino Donaggio, che hanno lavorato con Maiano, presidente della giuria Michele Placido, direttore artistico Davide Cavuti. Tra gli altri premiati Eugenio Bennato, Violante Placido, Carmine Elia, Pupia Vati, Edoardo Siravo, Lucrezia Guidone, Vanessa Gravine e Remo Rapino. Premiazione a sorpresa infine per Giuliana Desio, attrice nel film Chopin, girato proprio a Chieti. Grazie a tutti, ci vediamo l'anno prossimo.